Sabato 13 giugno, in primo piano nel TGL News, la situazione è relativamente tranquilla. Ieri in centro storico a Piacenza c'era tanta gente, tanti ragazzi, purtroppo ancora molti senza mascherina, ma almeno, piccola consolazione rispetto al fine settimana scorso, le auto non erano posteggiate proprio sotto il gotico a due passi dal cavallo perché c'è una pattuglia della municipale che ha tenuto sotto controllo la situazione, attorno alle 22 sono arrivati appunto gli agenti, hanno evitato e scoraggiato il parcheggio selvaggio e multato coloro che passavano perché ricordiamo è zona interamente pedonalizzata. Tra le tante vicende legate all'emergenza, la pandemia da coronavirus nel nostro territorio ci sono anche quelle che hanno visto protagoniste le donne in gravidanza. Da febbraio 20 sono le gestanti che sono risultate positive al covid-19, la più alta percentuale in regione, per loro ovviamente anche il tampone prima di poter essere appunto ricoverate. L'ostetricia ginecologia dell'ospedale di Piacenza sta anche varando un nuovo piano per consentire ai neopapà le visite proprio ai piccoli e alle compagni che hanno appena partorito. E a proposito di covid, il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha rivelato i dati relativi all'attività dei servizi sociali, 6.000 le chiamate in due mesi, sono davvero tante a conferma appunto della superattività che l'emergenza coronavirus ha imposto. Tanti anche gli aspetti collaterali, ad esempio al Nicolini, al Conservatorio, lauree in presenza a distanza, però insomma gli studenti si sono potuti esibire di fronte a una commissione e non via collegamento telematico, è ripresa anche l'attività della motorizzazione e degli esami, le autoscuole, l'associazione Lunasca sottolinea l'aspetto positivo del fatto che siano ripresi gli esami ma ci sono tempi d'attesa ancora troppo lunghi. Chiudiamo con le linee guida emanate dal Comune per il nuovo bando che appunto dovrà essere pubblicato per la gestione dello stadio Garibi, proprio in virtù della difficile situazione legata al Covid-19 il Comune prevede 120.000 euro di plafond per rimborsare le spese che saranno sostenute dal futuro gestore, probabilmente quasi certamente, il Piacenza Calcio. Tutto questo e molto altro sul nostro sito www.riberta.it e ovviamente in TGL.